Ciao a tutti, siamo Francesca e Salvatore Alia, siamo fratelli. Io ho vinto i due anni, lui ne ha 18. Veniamo da Rende, dalla provincia di Cosenza. Frequento il conservatorio Stanislocia, come azione di Cosenza. La musica, si può dire, è la nostra vita. Noi di solito non cantiamo mai insieme, è da due mesi a questa parte che abbiamo provato a casa, diciamo, è nata più per gioco come cosa. Invece adesso ci siamo resi conto di poter trasmettere tanto e ne stiamo facendo la nostra passione. Stasera daremo il massimo e speriamo bene. A presto. Francesca e Salvatore Alia, vengono da Cosenza. Eccoli qua. Sono due meravigliosi fratelli con voci portentose, meravigliose. Io vi lascio il palco, ve lo meritate tutti e ci farete fare un gran successo. Allora, il duo Ayrton Francesca e Salvatore Alia con Rise Like a Phoenix. Allora, il duo Ayrton Francesca. Allora, il duo Ayrton Francesca. Allora, il duo Ayrton Francesca. In road, adventures, retribution, you were warned Once untruths formed, once are made on You know how he rides like a finish I'll turn my flame Go about your business, act as if you're free No one could have witnessed what you did to me Cause you don't know me today And you have got to see, to believe From the pain in our arms To the eyes like a finish Around the mansion Seeking road and adventure Retribution, you were warned Once untruths formed, once are made on I'll rise up to the sky I'll rise up to the sky Once untruths formed, once are made on You know how I ride like a finish But you're my flame Flame I'll rise up to the sky I'll rise up to the sky Thank you Great brothers Belloni Grandi Francioi An ando Martinez